buongiorno a tutti allora stasera abbiamo un bel risottino allo zafferano con aggiunta di salsiccia tipico piatto lombardo il guai è che come sempre è esagerato guardate che piatto adesso lo faccio vedere dall'alto quindi cercherò di mangiarlo tutto non sarà semplice però in compenso di fianco la dea venere quindi magari grazie alla bellezza della dea venere mi viene più fame e ce la faccio ci proveremo anche perché oggi siamo senza renzi e anche senza la dea minerva però venere vale per tutte e avanza quindi mo magno ve saluto guardate lo spettacolaus di sto risottino qua da libidine c'era al cuoco arrivato col sorriso modello gatto silvestro che si è mangiato titti proprio perché era soddisfatto della cena che ha preparato l'altro è un bel branzino alla siciliana da da leccarsi i baffi quindi doppia libidine ma io stasera c'ho il risottino ciao